Tu Alessandra, anche tu sei così rubacuori come lui? Allora, quando ero giovane, sì. Sì? Adesso no. No? No. Ma perché non dai modo tu, secondo me? Ma forse, sai che non lo so? Una volta piacevo tantissimo. Io ti trovo molto, molto... Sto scherzando ma lo dico, però è vero. Però adesso no, ti assicuro. Io la trovo, Silvia, una donna intanto bellissima. Sì. Una donna che è difficile trovare di principi, onesta, perbene... Rompiscatole. Un po' rompiscatole, ma ci sta. No, però non è vero. Quindi sappi che se non fossimo così tanto amici, io ti corteggerei, Alessandra. Ma sì, certo, ma certo. E sareste una super coppia, litighereste dalla mattina alla sera. Ma quello sicuro, quello sicuro.